11.30 del mattino siamo in diretta con Emma di nuovo benvenuta buongiorno noi a Radio Bruno siamo sempre strata felici di avere Emma perché c'è un rapporto strata felice d'affetto che ci lega da tanti anni anche da quando nel 2012 dopo i terremoti in Emilia e Lombardia fu una delle artiste in assoluto più attive in una gara di generosità che ci vide coinvolti e quindi non finiremo mai di ringraziarti ci mancherebbe anche per questo insomma e anche per questo vederti ha un valore speciale per noi abbiamo sentito L'Isola dunque la canzone che abbiamo ascoltato in apertura si distingue molto dai tuoi brani precedenti va detto perché hai scelto di presentarti proprio con una canzone così beh innanzitutto perché a me piace molto è stata la prima canzone che ho ascoltato prima di iniziare a lavorare all'album e questa canzone mi ha dato poi la spinta per lavorare all'album in una determinata maniera e quindi siccome non volevo tradire questa emozione non è deciso di spiazzare con questo brano anche perché segna perfettamente la mia voglia di cambiamento, la mia evoluzione che comunque c'è, esiste e grazie a Dio perché ogni tanto si evolve e si cambia e il cambiamento non deve essere visto come una cosa negativa ma deve essere assolutamente accettato e apprezzato perché nella vita si cambia fortunatamente una persona cresce, matura come individuo e anche come professore avevo anche voglia di sperimentare dei sound nuovi, un modo di cantare nuovo perché sentivo l'esigenza di cambiare vestito e quindi credo che l'isola sia stato un buon punto di partenza quindi in questi due anni che bene o male sono passati dall'album precedente a questo hai ascoltato, c'è qualcosa che ti ha ispirato a livello di sound e di novità, hai ascoltato musica qualcosa che ti ha ispirato? No in realtà quando lavoro agli album non ascolto musica, ah no? No perché comunque ti condiziona e poi comunque ti sposta alla concentrazione sono stata chiusa in studio con i musicisti e l'album è nato proprio in studio, ogni musicista ha messo il suo sound nel disco infatti è un album pieno di sonorità diverse e quindi ho lasciato anche libertà appunto a chi ha suonato nel disco di esprimersi attraverso i suoi digusti no? Perché altrimenti non ha senso scegliere determinati musicisti se poi deve venire un suono omogeneo quindi da Ninja, De Subsonica alla batteria, Paul Turner, DJ Miroquay al basso Lorenzo Poli, Adriano Viderbini alla chitarra insomma ognuno ha messo il suo La sua impronta Esatto Essere qui il titolo dell'album, titolo abbastanza forte, denso, impegnativo dall'ultima volta che sei stata qui cosa è cambiato soprattutto in te secondo te? Una questione di consapevolezza, di fiducia in se stesse Beh la consapevolezza arriva secondo me con l'esperienza Grazie a Dio faccio da un bel po' di anni una gavetta molto importante quindi anche attraverso i concerti soprattutto capisco cosa voglio veramente poi fare nei dischi diciamo nei dischi successivi e quindi sì c'è stato quindi questo disco non è altro che il risultato di anni e anni di lavoro, di prove, di tutto E perché essere qui hai scelto? Perché è tantissimo essere qui, essere qui in questo momento e fare il lavoro che amo e essere felice di farlo con tutti i momenti up and down, con tutti i rischi Hai avuto qualche momento in cui non eri convinta che fosse la tua strada in questi anni? No, sono sempre stata consapevole che questa sarebbe stata la mia strada Sicuramente non è semplice a volte perché le pressioni dall'esterno sono tantissime Le aspettative Le aspettative poi ognuno ormai è libero di dire veramente quello che vuole nei modi più disparati possibili Che male lingue, dopo ci arriviamo Però no, ho resistito Forse quello è l'aspetto un po' più delicato Al di là della determinazione che poi l'artista ha per seguire un suo sogno o una sua idea di carriera eccetera di quello che vuole fare della musica Si tratta poi di resistere, di farsi la corazza Certo Per resistere alle cose poco simpatiche che ci stanno in questo mestiere No? A volte gratuita L'importante è non farsi piegare dai pensieri feroci degli altri Bisogna sopravvivere al pensiero degli altri Bisogna sopravvivere anche all'idea che hanno gli altri di te che magari non corrisponde a quello che tu sei veramente Quindi rimanere pura in questo lavoro è la cosa secondo me più difficile mantenere l'equilibrio è il vero sforzo di questo mestiere Io fortunatamente ci sto ancora dentro e sono felice di fare quello che amo fare con libertà E' una bella palestra di vita Eh sì Mette alla prova il carattere proprio Non neanche uno scherzo Cosa ti dici se ascoltiamo subito un'altra canzone dall'album Essere Qui? Ci mettiamo un pochino di pepe perché questa canzone poi in fondo parla un po' di sesso No parla proprio di sesso possiamo dirlo No ma infatti l'abbiamo detto Guarda su Amami Emma sposa mi sarò la funta della tua musica Te l'ha appoggiata lì piano piano Esatto è pronto ad ispirarti Quindi è un generoso vedi Amami e poi abbiamo sentito prima Effetto Domino Abbiamo detto una canzone dedicata al sesso Alla passionalità C'è tanta gente che si è fatta sempre i fatti tuoi Da questo punto di vista nella tua sfera sentimentale Tu mi pare che chiudi le porte molto spesso quando si parla di questo Ma sì diciamo come è noto non mi piace parlare molto della mia vita privata Però diciamo che ognuno poi è libero di pensare quello che vuole Beh più loro pensano quello che vogliono Io più faccio le mie cose senza che nessuno se ne accorghe Tanto poi ti vengono a spiare Tanto poi ti vengono a spiare Ma ce ne vuoi nasconderti C'è poco da spiare e poi sono una persona che non si nasconde per nulla quindi Poi basta andare nei posti giusti per non farsi trovare Così come nei posti giusti per farsi trovare Ci sono alcuni luoghi dove sai che sarai visto Finirai sui giornali E magari ci vai diciamo così Non proprio disinteressato Tu non lo fai No io faccio tutto a casa mia Ecco perfetto benissimo E nessuno sa dove abita hai capito? Insomma Comunque abbiamo svicolato elegantemente un'altra volta la domanda No l'importanza della sessualità E effettivamente La scopriamo in questo momento Sì assolutamente Nel senso parlare ancora di tabù nel sesso nel 2018 mi sembra veramente un po' antico Il sesso a volte complica ma a volte alleggerisce la vita E bisogna viverlo anche con un po' più di serenità e di Insomma non essere pesanti ecco Sono d'accordo No pesantezza No pesantume ma tanta leggerezza Perché ogni tanto fa bene anche quella ecco Essere leggeri non significa essere stupidi Neanche superficiali Esatto Appoggiarsi un po' sulle cose della vita Ogni tanto va bene anche godersela la vita E godere dei piaceri della vita Sì anche perché poi liberare la mente vuol dire liberarsi anche dalla famosa ansia da prestazione Che non è una prerogativa E quella nel sesso non la tirerei in bagno Non è una prerogativa Perché delle volte è vero Senti Emma Festival di Sanremo Tu lo hai vinto Lo hai presentato Quest'anno lo guardi in televisione o neanche quello Attenzione Eh sì A casa con calma Con calma Senza darti appuntamenti prefissati Oddio sono un po' impegnata fino al 2020 Però cercherò di trovare una sera libera da passare sul divano Hai curiosità molta, poca? Io credo che il festival ogni anno comunque attiri la curiosità di chiunque Come tanti altri programmi che tutti dicono no io non lo guardo E poi lo guardano tutti Io non ho mai nascosto il piacere di guardare Sanremo Quindi veramente se non sarò in giro a presentare il mio disco Una serata a casa sul divano a guardare Sanremo me la passo volentieri Certo bisogna organizzarsi Bisogna organizzarsi perché veramente mi hanno messo impegni fino al 2020 Sono impegnata e questo comunque mi rende molto felice perché non ho tempo per pensare ad altro Eh ma invece noi stiamo sul pezzo, stiamo sul tuo ultimo album perché stiamo per ascoltare una canzone che si chiama Malelingue Che è una canzone di una attualità impressionante Malelingue Praticamente ha come oggetto la questione degli haters Perché ancora non lo sapesse sono i leoni da tastiera Sono quelli che hanno un coraggio pazzesco nel dire le peggio cose a chiunque coperti dall'anonimato Il crozza, napalm, condividi, condividi E chi fa questo mestiere come il tuo ovviamente è particolarmente esposto a questi soggetti qua E allora può diventare un problema no? Perché come fai? Leggi una cosa magari brutta, assoluta, un'offesa gratuita Non puoi rimanere indifferente La soluzione è che non deve diventare un problema Perché i problemi nella vita sono altri Quindi questa non è una canzone contro gli haters Ma è un manuale di istruzione molto simpatico per chi si sente vittima degli haters Quindi è un modo di dire ragazzi veramente i problemi nella vita sono altri Queste bassezze di questi personaggi sono da ridurre veramente alla loro persona Quindi non diamo troppo peso a quello che ci viene scritto sui social Quindi tu inviti a reagire col sorriso Col sorriso Non a caso il brano parte proprio con una risata spontanea perché sono cose che fanno ridere Ce la sentiamo allora, magari viene da ridere anche a noi Bisogna fare gli anticorpi però alle critiche, non è sempre facile Eccola qua Me la immagino già live questa qui con tutti che cantano e soprattutto che ballano E perché parlo di live perché ci sarà anche un tour Assolutamente sì Ho visto già diverse date a maggio, tra l'altro c'è Milano Ho visto che c'è Firenze, come ti stai preparando? È come sempre ribalti un po' tutto quando sei dal vivo Assolutamente sì Un tuo classico Sì sì, ormai è il mio marchio di fabbrica Il live è bello per questo perché l'album, le canzoni prendono un'altra identità ancora Un'altra energia e poi mi piace l'idea comunque di far sentire le canzoni alle persone anche in maniera diversa Perché poi sennò diventa un disco veramente rotto Ecco tu dici non vuoi ripetitività E poi io mi annoio e quindi devo sempre cambiare tutto E devi stare attenta a non annoiarti anche a casa Tanto che per farti anche il fiato per i concerti sappiamo che vai a correre Raccontaci un po' Adesso mi devo veramente anche perché maggio per me è dopodomani Perché noi artisti viaggiamo con un'idea temporale completamente diversa le persone normali Maggio è dopodomani quindi devo iniziare a mettermi sotto perché ci vorrà molto fiato per questo tour E quanti chilometri fai? Guarda quando ho tempo mi faccio quei 6-7 chilometri, 10 a volte Anche perché mi dà l'idea di una persona che la vita se la gode A 360 gradi quindi anche se ti trovi di fronte a un buon piatto di qualcosa Di qualcosa che ti piace Beh si vede voglio dire Non è un segreto Non è un segreto dai Lo sanno tutti Una persona appassionale non può mangiare solo insalata Non so, è vietato Il piacere di vivere la vita a fondo Già a volte la vita è triste Quindi sinceramente io sono una che quando c'è da mangiare Mangia e il bicchiere di vino rosso non me lo faccio mai mancare E poi si va al Giannico e si fanno 10 chilometri E poi sotto tour comincia la vita veramente di clausura Dove non esco, mi impegno, mi alleno, vado a dormire presto Che tutti si immaginano magari, sai, la vita rock'n'roll No ragazzi, pippa proprio zero Però cucini tu ancora, ricordo che ti piaceva molto cucinare Io sì sì, quando sono a casa cucino sempre, tutti i giorni E il tuo piatto preferito, quello che ti riesce meglio? Ma in realtà sono molto brava a preparare il pesce o gli gnocchi fatti in casa, le polpette Sono molto brava a fare le polpette Le fai fritte o al forno? Fritte Allora, la polpetta al sugo va prima un po' fritta Sono d'accordo Va prima un po' fritta Altrimenti già Possiamo metterci d'accordo Magari una serata che non sia d'intralcio alla tua preparazione al tour Se magari passiamo da Roma Quando volete, non mi spavento Noi portiamo il vino No, tra l'altro c'è tutta una cantina a casa Ah sì, sei una coltrice anche di vini? Sì Rossi o bianchi? Molto, molto il rosso mi piace Molto bene, vedi? Diciamo che c'è una grandissima selezione a casa Se volete fare un bel regalo Una bottiglia di buon rosso No, no, per favore che sono giorni che vado in giro per gli store Mi hanno regalato più bocce di vino che veramente Io, Dio, li ringrazio veramente, grazie Grazie, ma non vogliamo dare verso l'alcolismo Velocemente ricordiamo Roma, Milano, Torino, Padova, Firenze, Catania, Napoli Queste sono le date del tour di Emma Le trovate naturalmente anche sul nostro sito È ovvio, con tutto il dettaglio della situazione Vi ricordiamo in tempo reale che oggi pomeriggio alle 4 Emma sarà a Bologna, al Mondadori, in via d'Azeglio A incontrare i fans Che appunto avranno piacere di scambiare quattro chiacchiere E farsi fare anche un autografo O magari sul disco appena comprato Sarebbe una cosa bellina, bellina da fare E poi l'occasione, insomma, a vederla da vicino Fare due chiacchiere E noi ci vediamo ai tuoi concerti, Emma Va bene, va bene Io vi aspetto Allora grazie a voi E niente, ci vediamo a Bologna tra poco Ciao Ciao Emma Ciao Grazie Ciao